Spread a quota 300, beh insomma è chiaro che è un livello di spread che preoccupa, riaffermo che non è questo spread possa dipendere da come a volte si dice perché il disavanzo previsto nel 2019 sia troppo alto, 2,4, il problema è che si è creato chiaramente un clima di incertezza e di percezione di pericolo, tanto è vero che qualcuno ha detto ma cosa farete, la patrimoniale, è ovvio che non si farà nessuna patrimoniale, sarebbe un'azione suicida, per correggere l'andamento dei conti pubblici che non stiamo parlando di situazioni greche al 13% di deficit o situazioni completamente diverse, gli aggiustamenti dal lato della spesa o da altri lati possono essere fatti tanti e in modo molto più puntuale, certamente non implicano elementi di emergenza così eccessivi, una patrimoniale significherebbe una specie di, secondo me una specie di suicidio. C'è un dibattito con la Commissione europea, un dialogo che questo crea confusione evidentemente, questo dialogo portiamo avanti, la piccola polemica sulle stime delle previsioni, solo previsioni che sono venute fuori, le previsioni di autunno dalla Commissione europea, che non è un pronunciamento della Commissione che il deficit sarà 2,9, è una previsione nel sistema di previsione di tipo statistico, io ritengo, perché lo so, che chiarimenti forniti dai nostri strumenti tecnici sui dati effettivi che stanno nella nostra legge di bilancio, che non possono semplicemente essere ignorati o si può dire, ma non li prendo in considerazione perché non ci credo, un corretto rapporto implica che su questo ci si confronta, non sono state prese in considerazione. Rispetto all'1 e 2 di crescita, secondo noi quelle stime al 2,9 di previsione non sono giustificate. risponderemo alle obiezioni della Commissione europea mandando il documento che ci hanno richiesto, che ovviamente manterrà, come ho detto, la manovra a cui crediamo.